a sponsorizzare la finale di campionato internazionale riservato ai maschi ai full aidry 2021 2022 saranno i numeri di catalogo 89 90 e 93 in arena i giudici valutare la bellezza di questi principini dal Venice Land Cup Mr Bruce McCrea Mr Jonas Salzman Mr Elias Farage Mrs Fight Branger Mr Eric Gier Mrs Martin Van Eyen Mrs Irina Stigler e dal Veneto dall'internazionale Venice Land Cup al Global Champions Arabian Tour di Roma un passo un volo attraversare l'Italia e le sue bellezze con le meraviglie in morfologia del puro sangue arabo e un attimo Al Jasmia Farm lo sponsor del Junior Colts Championship numero 89 in arena ed è il momento e l'ingresso numero 90 sono i numeri assediati da catalogo ed è il momento e chiudei un attimo a tutti i giorni assediati da tre le bellezze morfologiche al maschile in questa categoria ed è il momento numero 93 so we'd like to welcome back the contenders in this championship of the junior courts sponsored by the aliasimia farm from qatar i'd like to welcome back the collect numbers 89 and 93 it is open championship for all the chances for the three horses in the middle of the arena are equal to each other who is the mall good luck good luck to our panel of judges ladies and gentlemen enjoy this championship of the junior courts here in the venice land cup 2024 sponsored by the aliasimia farm from qatar valutazioni per comparazione 3 i soggetti che sono arrivati in questa finale di campionato hanno vinto insomma in secondo e terzi nelle rispettive categorie 89 90 93 anche un belico per il riempico per comparazione 3 i soggetti che sono arrivati in questa squadra e non si che sarebbe già arrivati in questa squadra di rarpegare e non si che sarebbe e non si che sarebbe già arrivati in questa squadra di rarpegare e non si che sarebbe già Thank you very much, Mr. Elias Faraj, Mr. Gia, Mrs. Maudan Farid Boenjev, Mr. Jonas Salzman, Mrs. Martin Van Heer, Mr. Bruce McRae, from United States of America. E' l'arena ancora, me susurrira Stiegler. So, thank you so much to the contenders in this championship of a junior coach. Sponsored by the Aliasimia Farm from Qatar. Thank you so much to our judges. We're now counting the votes. We'll be back in a few moments for the bronze, the silver and the gold medal. Thank you very much. This is Erena Stiegler and Mr. Amira from United Arab Emirates. 89-90-93. Girobe a piazzare quelle che sono le virtuali medaglie che tra poco verranno consegnate concretamente. bronzo, argento e oro anche in questo caso nella finale internazionale B riservata ai folletti 2021-2022. covenantale B riservata ai bloccat . . . . . . . . Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.